e ciao a tutti ragazzi e lui è chi sei tu io sono chi comano e io sono sei andata la connessione no io sono Ismael io sono Gioel Svanni no Gioel quell'intro la non la facciamo più allora adesso siamo dai basta ho fatto ancora Gioel basta ok dai allora spiega tu che dobbiamo fare oggi faremo la boxing delle super no 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 azietto allora oggi faremo un unboxing un unboxing uno spacchettamento di delle carte dei pokémon ci sta Pikachu all'inizio ci abbiamo quello che sembra Pikachu all'inizio ci abbiamo subito Pikachu e poi quello che sembra Pikachu Pikachu oh che è un altro? Paccaccio Paccaccio che è Paccaccio? un spray però è tipo un sembra comunque Pikachu però è un altro Pikachu apriamolo che stai a dire? no dai non è vero ma che stai a dire? ci sono tanti vedo comunque Jonathan sta così perchè non c'è una sedia quindi doveva essere quella piccolina infatti noi abbiamo due sedie oh ma c'è da sopra noi abbiamo due sedie questa qua da gaming che ci sto adesso io e un'altra che è questa qua gialla che ci sta Gioel è una gialla e io quando io fai i video in camera per i giochi mi cedo qua dentro ho sto per cadere UAH marino ma loro sanno che c'è qua però no e che? loro sanno che c'è qua perchè la non lo vedono qua qua cosa? l'hamburger sanno che la c'è un armadio ecco la ecco la qua? eh no perchè lo vedono perchè lo vedono perchè lo vedono perchè loro non lo vedono da questa visuale visuale? giù ok eh ah oh DEEE sei morto eh sai che prima signore eh al compleanno di Isma voleva fare ma che voi? no niente non devono sapere un cazzo no lo devono sapere eh c'era uno che l'ha tagliato Oda che voleva tagliare il collo a qualcuno no no eh aspetta eh tipo era un mago ed è una cosa no fregassimo era tipo che Jonathan era la doveva morire eh ma scusa John mi puoi dare le mie cazzo di forbici sono qua le mie e dov'è? ahahah nel mio striccio forse ahahahah ecco che io mi sono preoccupato perchè sto cazzo perchè 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 ma stai zitto non è vero eh tanto questo video lo vedrà eh Paolo vabbè ecco che sei tu allora come si chiamava granata neri come si chiamava no si Paolo non Paolo quello l'altro che aveva 12 anni eh Marco eh Marco se mi stai vedendo ciao cazzo che cazzo è questo questo vita è stato astuccio ahahahah guarda 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 io ne sono molto spaventato c'era Marco c'era c'era Marco il mio amico poi quando ero comprando che c'era uno un po' un mattarello ok ok allora eccoci con le forbici Giulia dai ok eccoci con le forbici Giulia dai allora aspettate ok 2 2 eccolo roberto ah guarda qua che c'è giù che c'è? ah 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 però è bello sarebbe così bello 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 un po' come tu hai guardate c'è da rosso and no eh c'è da rosso nell'occhio no c'è la luce ma perché c'è la luce? quale luce? ciao ecco e anche qua c'è un po' il cecato di Pikachu ah che è? che è? che hai fatto? niente ah 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 allora ecco le carte allora questo è già bello Jonathan che? aspetta un attimo ah ma c'è sta ah allora qua c'è la figura di coso? è di Pikachu di Pikachu e qua c'è la figura dell'altro che non mi ricordo come cazzo si chiama questo? veramente interessante allora se sapete come si chiama scrivetelo nei commenti oppure se YouTube mette i commenti privati vaffanculo e poi come si come si chiamava que? ma io non posso quella piccola cercatelo su Google ma non è merda sento devo andare a fare una cosa Gio cosa? un attimo devo andare un attimo a fare una cosa nooo non devi fare niente nemmeno io devo prendere l'album dei Pokémon ma perché li prende l'album dei Pokémon? ma così no così li mette ma così così li mette Gio aspetta così li mette nel libro ragazzi questo qui è un mega spacchettamento a bocci veramente molto molto bellissimo perché guardate guardate con i vostri occhi state per vederele mega carte che sono interessanti ve lo farò vedere dopo questo tipo è un Pikachu non è Pikachu però sembra capelli di merda però comunque ok dopo vedremo capelli belli nana conto contato tagli un'altra volta zitto no aspetta devo prendere il coso ciao e dai posso stare seduto è un po' al culo comunque prima c'era uno comunque prima io ne ho cercato l'occhio perché perché c'era uno tipo io ciao c'è il ma da quando te lo sei cercato con Lorenzo te l'ha cercato lui no per un verità mi ha dato una botta qua lo sono per dire ok dai lo ho sempre e no lo ho sempre oh no far vedere a Isma che che si è rotto copa decidere davvero che adesso av$ 3 av$ scotta Ma vetti! E' un tugliacchino! dai che un po' zigg di merda aspetta raga dopo 10 minuti raga incredibile Ismail ha trovato l'album adesso possiamo fare lo spacchettamento scusate ma perché in tutto questo tempo non sono andato a prendere la sedia per sedermi vabbè non c'è tutto questo tempo non trovavo l'album e l'ha trovato è quello grande è più grande di me guarda mettiamo la sedia piccola qui allora ci vediamo allora io non sono io non sono tanto forte con i pokemon non sono tanto forte ma tutte le collezioni allora non sono tanto forte voglio scaricare il videogioco pokemon allora non sono tanto forte con i pokemon però vi faccio vedere un pochino questi sono allora qua non vi faccio vedere perché è un segreto allora qua non vi faccio vedere un pochino allora qua non vi faccio vedere un pochino il potere dell'acqua il potere del fuoco e il potere dell'acqua e poi zitto cioè dove è la zo 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 e qua ci stanno le altre oi ma una la devi mettere in qualcosa nero vedi qua non lo so stato io ti metterò una qua la carta a me è una carta qua ma che cazzo vuoi allora e dopo c'è anche questa parte qua la più bella quella che sono più forte allora i draghi quattro ne so? tre si chiamano draghi? no cioè so draghi puoi leggere da qua? qua si legge si legge charizard charizard e charizard di max qua si legge si legge dai vabbè allora oh zitto allora qua c'è zitto allora qua c'è charizard multicolore dopo charizard vabbè quello là tipo porca pittona che figata è successo allora allora questo è charizard multicolore questo è quello nero e questo è charizard infuocato e dopo qua c'è un altro però non mi ricordo come si chiama Amparos però non mi ricordo come si pronuncia però vabbè dopo qua dietro ci abbiamo tutte le regie ci abbiamo anche quest'altra pagina qua di regie qua si legge e ci abbiamo questo qua e anche questo si legge e dopo basta dovevi dire leggere che no se no infanzivano tutti leggere qui si leggere leggeva io leggo tu leghi io leggo gioco 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 togliti ho fatto un altro no dai metti questa sedia di qua ho ballato metti questa sedia da qua di là di là fai di là scemo caga la sedia caga caga guarda capito scusa vado non ho i muscoli vai 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 ehi ma più muscoli basta 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 qua viola basta zitto o negro però lo sai non è terzi però non è allora metto questo qua e metto il sangue c'entrava caga lo apro tutte le collezioni madonna questo qua sembra piccolo cosa tutte guarda tre charizard è uno di tre charizard allora ma in verità la forza allora iniziamo con questo qua di pikachu iniziamo con questo di pikachu ma tu che c'è dentro tante ma che ne so che c'è dentro tu lo sai qua si legge ma qua si legge tu quanto leggevi a scuola quando hai imparato a leggere io non leggevo mai hai imparato a leggere no io non leggevo mai lo leggo tu leggevi no vorrei dire che allora che ti leggeva Gregory ti ho distrutto ma fa il culo ma fa il culo scusa Gregory ballo di potere ma scusa un attimo ci abbiamo dei doppioni forse nooo che cavolo tua madre ha i doppioni eh no che bello questo è il drogato non è vero questo non conosce i pokemon allora vorrei ti stai zitto ci stai zitto allora in una cosa in uno di queste quante carte ci stanno in uno del cuore è vero tante allora ci due carte ti vuoi stare fermo guarda città cioè ti tolgo ho giù ma togli io ho fatto il mare ok me l'abbè allora guardate quante carte ci sono in una bustina allora perfetto iniziamo subito con quello te lo metto così allora il prima la prima carta e me la devi far vedere e l'ho già fatta vedere Pikachu Pikachu tutto metto l'altro tutti vogliono Pikachu perché è carino vabbè tutti lo vogliono perché ma poi Pikachu è pure raro cioè non tanto non tanti questo qua non tantissimo raro questo qua non è questo tanto allora questo Pikachu qua non è tanto raro perché non è proprio quel Pikachu cioè immaginati immaginati se era quel Pikachu grasso e multicolore che era se era quel Pikachu grasso e multicolore cioè immaginati questo è Raikou Raikou e non so nemmeno come si pronuncia che questo lo metto qua Raikou iniziamo il piegaio un attimo Charizard di tutti i colori di tutti i colori è fighissimo Raikou chi è Raikou Raikou è carinissimo ma c'è scritto il nome Raikou è carinissimo c'è il nome? ah è bello Raikou è bellissimo è uno dei miei preferiti non perché non perché è raro perché ti piace il colore no perché è piccolo è bello è piccino io non lo so è bello che ti piace il colore che colore è? un cinturro un ciuolo io non lo so qual è il mio preferito non ti so non lo so qual è il mio preferito dopo c'è un altro un altro Jonathan vabbè dai un altro di quelli che è carino l'energia un'altra energia questa che energia è? non lo so forse dell'energicità ma che è? sì l'energia l'energicità oh stavo per dire piscio perché era giallo tu ti pisci addosso non è vero sì gioca con il poppito gioca con il poppito dai vai gioca con il poppito oh molto cago allora molto scoppito allora lo metto qua dietro allora io questo qua lo metto io ho allora io l'energia lo metto nella parte delle energie che c'ho questa parte qua questa di rossa e dopo c'ho anche qua allora prima dopo prima prima seconda e terza e poi ce ne ho tante ce ne ho di più di queste qua perché dentro ce ne stanno di più dentro alla bustina ce ne stanno tipo in questa qua di energia ce ne stanno due 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 cose di energia ci sta due e ce ne stanno papà la devi cazzo il culo niente allora il culo papà ci abbiamo quindi questa la metto vicino qua che cazzo a me un po' non mi piacciono a me un po' fanno cagare fitto allora vediamo dopo c'è dopo c'è lo metto qua dove c'è lo so eeeh eeeh giù dopo c'è vabbè tu non sei tanto esperto di pokemon infatti io so solo pikachu cioè eba cinquanta cinquanta di forza inizia con la p allora inizia p p i e finisce e y tassa raffica 20 raffica 20 raffica 20 ah dai eeeh eeeh pdj ma che carino è tipo un'aquila bello però un po' brutalello e lo metto però bello non in questa parte qua riferito lo devo ancora scegliere ma osti che visto che parliamo pochissimo sembra una live ma infatti dove cazzo si metteva da dietro la fonte ah isma isma me sta a mangiare me sta a fame deve mangiare il povero dino no mi sto scegliere in base dino no non è un pokemon tu sei un pokemon carattino tu sei un pokemon ma dai c'è pure la mia chiamata hai offenduto hai offenduto hai offenduto hai offenduto dino come ti guarda mai che l'offende hai offenduto dino ma è dino è il mio dino hai offenduto lui è non lo sai che lui è mio figlio gioco hai offenduto è lui che l'ho offenduto è mio dino io non offendo i dini io non offendo i dini i dini allora in piccoli dai basta basta anche tu su un dino però questo pikachu lo dobbiamo mettere con qua chitto dino chitto bimbo pokemon qualcuno pokemon bimbo pokemon col colore di merda bimbo pokemon color merda chitto bimbo pokemon e dai e dai mamma hai mostrato le carte a alcuni ai fans allora lo sai allora to be to be be mamma ma voi avete visto le ultime le borne come si chiama da qua per cose ho fatto una magia quando hai offenduto tua madre tua madre quando hai rotto ha fame dino ma lui è dino ciao 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 è dino allora li fai male povero dino minchia minchia ma l'hai offenduto tu non hai capito io c'ho dopo jo jo tu non hai capito che c'è dopo che c'è dopo allora zitti oh però zitto ok allora però io vi devo far vedere le come si chiamano le ball allora iniziamo dalla più potente l'ultra ball questa qua bella molto bella dopo c'è la minor ball dopo c'è la un'altra minor ball dopo c'è che c'è dopo che c'è dopo la timer ball la timer ball molto bella e la esca ball la esca ball è bellissima però l'ultra ball è la più bella e la mettiamo qua allora iniziamo allora ci sta qua che di nuovo vi ricordate quello che avevo messo prima qua no ma perché ci stiamo? no 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 non lo so nemmeno io siamo coglioni zitto ciao comunque questo questo cosa qua questo regalo qua dei pokemon me l'ha fatto michele ho fatto bravo michele chi è michele? chi è? 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 electric river 140 di attacco come 140? in post porca pittà 140 come si chiama questo? no questo è bellissimo questo è bellissimo dove cazzo metto? anche Dino è sorpreso qua niente porca pittana un'altra megaball quanto sta durando il video? megaball quando sta durando il video? che cazzo ne so metti il don di sturbare oh un attimo oh sì sono gli altri regali di Natale ho rotto il canale infatti lo scartamento lo facciamo un altro giorno domani? sì ah e perché mo devo vedere Dragon Ball infatti e poi che cazzo perché ogni volta? ciao Dino i messaggi sono che cosa fa un vulcano sporco? si lava davvero cosa fa un vulcano sporco? si lava il culo oh però Gioela è capita perché la lava da dentro da dentro Gioela non l'ha capita questa è la cenere la lava da dentro il vulcano c'è la c'è una specie di fuoco che però non è un fuoco normale è un fuoco tipo tipo muschioso che però se tu lo tocchi diventi polverizzato peggio del fuoco si chiama lava lui ha detto la battuta lavarsi quindi si lava con la lava capito? io l'ho capito ma in realtà non è vera perché i vulcani in realtà i vulcani si sporcano però mica si lavano capito la battuta? sì sì te la rispiego te la rispiego vabbè io l'ho capito e poi oh ma finiamo sto video di merda ottimo le finite le carte? no 28 minuti di video minchia facciamo facciamo gli altri scartamenti ma non tu hai detto l'altro giorno no questo delle carte è un altro giorno hai detto prima raga guardate ragazzi questo è un pokemon che credete? giù lascialo sono spoiler per la prossima volta è vero basta ho fatto solo una battuta aspetta ok ragazzi spero che il video spacchettamento unboxing dei pokemon vi sia piaciuto ci sono anche non sono finite le carte domani scoprirete la seconda parte ciao oggi ciao ragazzi ciao ragazzi questa qui è la seconda parte del video dell'unboxing spacchettamento dei pokemon allora allora mi posso prendere sta sedia? no no perché mi serve per appoggiare i pokemon allora mi risiedo qua ma tanto ti dà fastidio là? no stava per cadere una luce vabbè continuiamo subito allora vi fa stavano per cadere delle carte aspetta madonna ok allora raga guardate questi sono dei pokemon guardate qua la collezione di Ismaele dell'album allora vi faccio vedere allora questi qua non sono tutti i pokemon che abbiamo trovato là dentro perché alcuni pokemon già li avevo trovati e non là dentro e quelli che ho trovato sono questo pikachu qua questo e dopo ci stanno tanti altri tipo qua qua dopo c'è anche bu qua questo è carinissimo non l'ho trovato ma è carinissimo qua e dopo ci stanno tanti altri però ops non ve li faccio vedere perché c'è ne sono un po' troppi dai allora cominciamo allora che cosa si chiamano che è blitzla blitzle non si pronuncia così blitzle lo so ma questo raga è un pokemon è un si ed è incredible non è raro però ah non è raro ma una volta hai fatto hai preso delle carte rare guarda qua madonna ma è del ma è del video di ieri questo del video di ieri e anche questo è del video di ieri però questo e questo 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 e questo non sono di ieri ma di un altro video perché no no abbiamo fatto il video ah allora questo dove la metto vabbè la metto di qua così riempio riempio l'altra parte così così vabbè un'altra energia energia già non c'è bisogno allora questa la metto qua è dritta sì che c'è dentro dopo c'è qua questo che è qua ah vabbè l'altra energia dai ok la metto qua dietro madonna così dopo ci sta vabbè metto subito già togli il pide vabbè ma che cosa è un'altra energia sì madonna la prossima che è che è questo l'allenato è un allenato vabbè è una cosa vabbè allora lo mettiamo qua dietro con lui lo mettiamo così vabbè anzi mettiamo visto che qua sono sicuro di trovare tante energie io lo metto io lo metto qua che cosi aspettate aiuto ok dopo per la prossima ma che è questo ah no niente io dopo vado a giocare a fortuna ok prossima carta volt torb sì come ha detto jonathan volt torb allora posso fa anch'io aspetta questa già ce l'ho questa già ce l'ho già professor cu 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 questo è un altro allenatore metti questa qua ok guarda qua ecco no no qua qui no qua qua dentro questo buco apri apri tu apri io metto questo apri ok io questo lo metto qua messo sì ok allora facciamo una cosa questo lo metto qua anzi allora visto che questo già ce l'ho metto dov'è eccolo vedi sta qua con un'altra carta io questa carta qua la tolgo con due carte però questa carta qua la faccio vabbè la metto metto qua e qua anzi metto questo ok raga io ho visto già la prossima carta pokemon veramente qualcosa di stupendo è carino soprattutto avete già capito aia devo far così e vabbè tanto meno male l'ho fatto qua e metto ma come ma nei vestiti non ho sbagliato ma chi ha sbagliato io ho sbagliato ma tu hai sbagliato aiuto guarda 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 così sta ma cos'è ma cos'è guarda pikachu si se magari ti mette a fuoco togliti c'è il sole dietro ecco perché in realtà dietro non c'è nessun sole dietro non c'è nessun sole nessun sole ok basta oh 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 però c'è ciao comunque giole non c'è giole non c'è perché non mi si abbassa cosa allora abbassati prendi tu un'altra carta gio come prossima carta abbiamo abbiamo il pokemon fan club fammi vedere è un allenatore non è un pokemon si legge pure e va bello dove si mette qua vai possiamo metterlo anche lì tre prossimo pokemon è l'ectabud l'ectabud guarda bello 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 questo fallo mostrare come si chiamava eletta eletta bats questo è bello e lo mettiamo dove lo mettiamo questo lo mettiamo in tre con lui intanto qua c'è questa due mettiamo vai prossima carta energia energia cosa raccine me la raccogli è bella la raccogli io aio ok aio ma la fa perché mi fai la linguaccia boh bello questo lo mettiamo bello quanto va 20 più 20 ah giusto 40 28 più 28 ah 48 28 28 28 28 28 28 28 un altro allenatore 30 più 30 60 quindi se questo questo già ce l'ho aspetta quindi quel video se questo video dura 28 eccola l'altro video 48 è sblito un'altra energia un'altra ma che bello questo che è fammi vedere allora un'altra energia spoiler ti ricordi che avevo fatto l'orco dallo shiligami lo scambio e alla fine dove è la ecco prendila ok e la mettiamo qua dietro vai un'altra energia le mettiamo oh tanto mettiamo qua dopo ci abbiamo la porzione perché aspetta bocciane aah 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 energia aah aah sempre di fulmini aah 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 c'abbiamo lui chi è lui lui si chiama lui un uccello pinie che è otto bif jain aah big Jain aah pinie che è otto come prossimo abbiamo un'altra energia come prossimo abbiamo un'altra energia eg e come prossimo abbiamo qualche un Schan un sistemico strano e come prossimo abbiamo Electrode Electrode elektrode Eletrode. Io non so manco chi è. Non so perché vi sorprendo a vederlo, perché è bello, è figo. Un'altra regia. Oh, un'altra megaball. Un'altra megaball. Megaball. Ah, una megaball. Ah, una megaball. Questa già ce l'ho, quindi la mettiamo qua. Guarda che già ce l'ho già. Eccola. Megaball. Due megaball. Doppione. Insomma, le fate vedere le carte rare? Sì, però aspetta, le voglio far vedere meglio. Allora, qua. Partiamo comunque. Ragazzi, Ismaele ha, beh, senza, senza che Ismaele ha fatto un video, ha aperto alcune carte dei Pokémon, ha trovato delle carte rare. Sai, si capisce perché è colorato, capito? Tipo con i brillantini. Spitto. Ecco. E lui ve le vuole far vedere? Partiamo da quella che sembra proprio la più rara, però non so se è la più rara. Che qua? Guarda! Però sto solo di merda. Va bene, me ne vado. Ecco. È Charizard multicolore. Che in realtà questa, queste carte qua, me le ha regalate Gregory. Qualche carte rare. Che ha messo amicato, wow. Sì. Eccola. E dopo. La prossima la posso mostrare io? Vai. La prossima è... VMAX. Charizard VMAX. Sì, silenzio. VMAX. VMAX. Charizard. Charizard. Ah, Charizard non è. Un altro Charizard di fuoco. E dopo ci abbiamo Charizard. Charizard, vabbè, quello là è nero, che non mi ricordo come si chiama, però è nero. C'è scritto. Ah, ok. Ecco. E ci abbiamo Amparos. Amparos è lui e dopo basta. Quelle più rare che ho sono queste. C. Perfetto. Andiamo a vedere qua, che è sempre NRG. NRG vaffanculo. Sì, ma aspetta. Il mio telefono a che carica sta? Boh. 9%. 9%. Vabbè, resiste? Sì. Io non lo so, no. Secondo me non resiste perché... Guarda, allora, qua ci manca poco. Però guarda che ci abbiamo qua. Già, guarda che ci abbiamo. Un'altra scatola. Un'altra scatola. Un'altra scatola. Ma è questa, la vedi? Ah. Dai, però veloce a mostrare il tuo vero. Infatti, allora, allora, allora. Elettro. Io non posso manco muovere il braccio a sinistro perché ho fatto il vaccino. Prima dose, ancora. 12 anni con più ti dà il 30 agosto. NRG 2021. Il Natale è tutto mio. Questa. Questa. Sua madre. Lui, fortissimo, bello lui. Ah, ha. Alla... Allora sappiamo lui, chi è? E' sempre quello di prima. Electra... 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 Aspetta, energia, 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 energia. Ah ti aiuto io! Camilla... Io sei... Mettila qua... Al contrario... Così... Che cazzo... Dopo energia... Le metto qua... Un altro... Blizz... Blizzle... Quello di prima... Poi metti qua... Qua... Sempre qua... Pro dritta... Arma nostra... Ok... Dopo qua ci abbiamo... Oh ma un'altra... Qua... Ce n'abbiamo... Ce n'abbiamo cinque di que... Ah... No... Quattro... Ce n'abbiamo... No... Cinque... Sì sì... Cinque... C'abbiamo cinque... C'abbiamo cinque carte così... Cinque... Ma è la quinta que? Sì... Uguale... No è vero... Eccola... Non l'avevo vista... Si ma c'ha... Que... Que... E dopo sta anche qua dentro... Mi sembra... E anche... Tipo qua dietro... No... Da dietro si mette Gio... Aspetta un attimo Gio... Vabbè... Tanto la facciamo col tuo... Facciamo la seconda parte... Seconda parte... Eh... Gio puoi prendere la carta... Madosca... Dov'è? Dov'è? Dov'è cazzo? Eccola... Però aspetta... Più piano... Ah... Mettiamo così... Ah... Allora... Ma... Fermo... Fermo... Allora... Allora... Mettiamo... Lei... La mettiamo qua... Qua... Non riesco a metterla... Qua... Così... L'energia... La mettiamo qua dietro... Qua... No però... Lo dobbiamo mettere da dietro... Così... Sì... Isma... Il mio telefono è 8% Prima stava a 9% Mh... E vedi... Meno male che non resiste... Saa... Da... 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 C'è bene... Ma... Che mettiamo qua... Che cazzo ne so dove la mettiamo... Isma... Sono vaccinato... Ora sono un... Vax... Non sono un Vax... Prima ero un no Vax... Ora sono Vax... Prima dose... Come ho fatto per vedere la prima dose... Guarda già bene... Che va creato... Madonna... Purtiamo qua così... Ok... Ecco... Questa... Ok... Non c'ho... Non facciamo in tempo... A dire nomi... Scusate se non diciamo i nomi... Questa... Ha bella energia... Ha bella energia... Però... Ehm... Dobbiamo fare veloci... Perché se no il mio telefono... Si può scaricare... Però... Il video di ieri... E al video di oggi... Un pochino... L'abbiamo fatti... Poi... Alla fine... Che si avvicina... Alla fine del video... Spendiamo... 20 minuti di video... Devo... Io che devo unire... Anche la parte di 28... Comunque... E' passato un giorno... Da... Quel video che abbiamo fatto... Della... Giusto... E' passato un giorno... Ehm... Perché non facevamo in tempo... In realtà... L'abbiamo fatto la sera... Quindi... Non è proprio... Non è passato... Proprio... Un giorno... Si però... Ieri abbiamo fatto il video... Quello... Ah... Fisci... Fisci... Alle ore 22... Fosse... Perfetto... Perfetto... Ah... 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 Dai... Eh... In queste... Ne mancano poche qua... E però c'è anche l'altra E lo so La facciamo domani Non lo so Oh Sesta carta Uguale 6 Ma che cazzo E queste qua Sono solo le No vabbè Doppione Raga l'ultima carta Non ci crederebbe Quella è l'energia Non che l'abbiamo trovata Ancora che la faccia così Pikachu Pikachu C'abbiamo un C'è Doppio all'ultima No no L'energia è qua L'energia L'ultima carta non ci poteva che essere Pikachu 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 è rara però Anche da trovare un pochino Sì ma questa qua non tanto Lo so Ti immagini che troviamo Pikachu raro? Sì vabbè ti immagini che Che troviamo Quel Pikachu là Tipo quel Pikachu là Ciccione C'è Grasso e multicolore Ma qual è il pochino più raro di tutti Di tutti Di tutti Il pochino Ne so No allora Il pochino più raro di tutti È Charizard E io ce l'ho Charizard Lo so Il pochino più raro di tutti è Charizard Però I pokemon che stanno nei film Nel film di pokemon Il più forte è quello là bianco Lo so Il cattivo Ma poi non è cattivo quello Ah però c'è Però ci sta qui Non lo so Qua non so se ci sta quello là Però Mi sa di sì Però è raro da trovare Ah ok Ma adesso ci mancano stecca Allora mettiamo in tappo Ma è raro que È raro No no non è raro Ma non è raro Ma anche E ma come È heavy È heavy Ecco come si chiama il pokemon Uguale a pikachu È heavy Ma non è uguale È ma È però No è marrone merda Però È un pochino uguale 6% Wow Aspetta Se tutte Quante carte mancano Ma che ne so Ma non è io Lo so Allora qua dentro Che cazzo Allora Che è due No qua non è niente Fai la lascerò qua giù Dove cazzo era Allora In una cosa In una di queste Quante carte ci stanno Secondo voi Secondo me 60 In ogni di In ogni In ogni bustina Secondo me ci stanno 60 carte qua dentro Eh vabbè Ma non ce la facciamo Eh ma è qua dentro Che c'è Che è qua Forse anche di meno Perché Qua data 60 L'avevo già comprata Io Ma che ca No qua ci stanno Le altre cose Jonathan Aspetta Non metterlo al massimo Questo è Perché Se lo metti al massimo Ti scarica Più veloce La batteria Ah Queste qua Sono le cose Che già Ci sta Il tavolo Da giocare Questo qua Guarda che c'è Qua c'è il tavolo Da combattimento Non questo Ma Qua ci puoi combattere Ci vedete? Ma loro ci vedono? Sì Però guarda Allora qua Tipo Eccolo Qua è il tavolo Da combattere Per combattere Ma non lo apro Perché se no Si rovina Vabbè però Finiamo il video E questo pacchetto qua Lo facciamo In un altro video Domani Però adesso Lo rimetto al massimo O domani In un altro video Domani se no Oppure stasera Quando lo ricarico Bene ragazzi Il video Finisce qua Ci sarà anche La terza parte Però Io ho deciso Che questi video Li uniscono Allora Signore editor Cioè Jonathan Si Ho deciso Che questi Buona fortuna Ho deciso Che questi tre video Li unisco insieme E quando sbagli A editare i video Non scelerare Ok Però devo mettere Prima la intro E alla fine l'altro Quindi non so Che video verrà Noi Guarda come finiamo il video Porca Ciao raga No aspetta Aspetta Allora Il video Lo dobbiamo finire così Guarda un attimo Guarda un attimo Guarda un attimo Un attimo Guarda un attimo Guarda un attimo Eccomi Ragazzi Il video Si conclude qua Ciao Uno E due Spendi tu Pikachu Ciao Ciao Terza parte del video Che ovviamente Unirò insieme Come sempre Come sempre Sì Che io In realtà Non l'ho mai fatto Questa unione Di video Di sto unboxing Dei pokemon Ok Inizia Citto Sarò io Sarò io Eri tu Sì Ecco Quindi Ricominciamo L'unboxing Qual è la prossima Carta Il prossimo Pacchetto L'ultimo Questo qui Sì Questo pacchetto Sono tre Pacchetti Eh Sono tre Pacchetti Sì Però aspetta un attimo Dov'è Quell'altro Il pokemon Che stava qua Dov'è Quello Quello Uguale Qua Dov'è Perché Stava Qua Stava Sopra Di Ok Ti ricordi Che Quell'abbiamo L'abbiamo Trovata Sei Volte Quell'è Sì Au Infatti Quando Gioele Non c'era Abbiamo Trovato Questa Tizia Qua Sei Volte Si Chiama Au Au Che Figa Ste Carte Gioele Abbiamo Anche Mostrato Le carte Quelle Rare Che Ha Sono Sono Tantissimissime Veramente Bene Sono Tantissime Ismaele Molto Scivola Isma Sono Tantissime Te l'ha Amato No Aspetta Ti Ti Magini Troviamo Charizard Charizard Però Quello Lì Ultra Rarissimo Sì Però Non è Possibile Ma Ancora 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 Aulu L'abbiamo Trovata Secondo i miei Calcoli Zitto Secondo i miei Calcoli Questo video Dovrebbe durare Un anno No Charizard Charizard Zitto 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 Non è Charizard Non è Charizard Allora Per dopo Eh sì È per dopo Ah ok Bello Intanto ci abbiamo Tu togli Ma che è Come si Que Eh Allora Ev Quello là Che ha detto Quello che sembra Pikachu Però marrone Merda Minchia Eh sì Che ca Cioè guarda Cioè guarda Che bello Che bello Quella carta è finissima È bellissimo Isma La settima carta che troviamo di Au Ma poi in realtà non si chiama Au Si chiama in un altro nome Però non lo sappiamo pronunciare Au Cioè vabbè 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 Ancora Se vabbè 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 Ho capito Quanto errore Ho capito Ho capito Ho capito Che fanno Il doppione Il doppione Un doppione Ah però è raro Que Non è troppo È un Non tante Questo qua Non è tanto raro Però non si vede Un cazzo Aspetta Mi abbasso Mi No Non è perché È sfocato Perché Cioè Non so Perché non si vede Perché è buio Se Di giorno Non si vede Di buio Non si vede Vabbè Comunque È una carta bella Però non è Non è proprio rara Però è figa Doppione Quindi Tu hai detto una parolaccia Cosa? Ha detto figa Figa Dai Non ti mette le dita in bocca Dai Dai Non litigate Che youtuber sei Che youtuber Che diventa Dal grande farai un milione di lavori Ma no Lo youtuber non riusciva a non farlo Se vabbè Però che palle Ah Ancora Che è? Se vabbè lo fa E l'ho messa al contrario Ancora Au Cioè No Ma che cazzo Di nuovo doppione Wow Di nuovo doppione Ma è strabiliante Goku È strabiliante È strabiliante Ha un'aura strabiliante Oddio È Goku Goku È strabiliante Ha un'aura potentissima Ha un'aura potentissima È strabiliante Goku Goku È strabiliante Tu sei strabiliante Che cazzo vuoi? Che cazzo vuoi? No Che cazzo vuoi Ti immagini che trovate 20 di anni No no Gio Che cazzo vuoi? Che cazzo vuoi? Niente Perché? Porca butta Ma vede Niente Ma è un doppione No 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 Fallo mostrare No No Questo è un'altra carta Ah Non è quello Allora Non è possibile Cioè Che è? Ma Leggi Allora Leggi il nome Però non dirlo Due non E vabbè Allora No Raga Sì tutto Sì tutto Ciao Dove si legge? Che c'è scritto raga? Ci sta scritto È un pokemon Raro Guardate In realtà non è tanto raro C'è scritto Lo leggo? Lo dico? Charizard C'è scritto Charizard Charizard Il pokemon Quello raro Il più raro Oh avete trovato due Però avete trovato un altro Pikachu Infatti io lo metto qua Pikachu Però quello ha fatto così Eh Guarda dove lo metto No No vicino agli altri Sar Invece agli altri Charizard Sì però C'è Sotto In Charizard Così ne sono quattro Ma ti immagini che troviamo 20 di qui Di questi Gau Perché ogni volta si fanno male E dicono Au Questo lo metto dall'altra parte E poi Un Charizard Cioè non era Charizard Ma che c'è Questa è la parte dei Charizard Comunque Charizard Aspetta Quanta vita Mi fai vedere Charizard 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 Quanto Vita Aspetta Ciuccialona Ciuccialona Ciuccialcazzi Di Di Centosessanta Ciuccialacazze Di Le tue sono grosse Di forza Centotretta Supergrosse Supergrosse Anzi Forza Centotretta Cosa Non è niente Cos'è Le tue sono grosse E possiamo far così No Ti tocco Questa l'ho messa al contrario Simi Simi Siar Eh Ma ti stai fermo Pokémon Ma ci credete che dietro c'è scritto Pokémon Non mi sembra vero Incredibile Pokémon Gregory Qua dietro c'è scritto Pokémon Stefano Anzi Come cazzo Marco No no Paolo Zitto Zitto Che cazzo Mr. Francesco Guarda Che è Mr. Francesco E lui si chiama Pirlo Guarda Pirlo C'è scritto Pokémon Ah Alessa C'è scritto Pokémon Cucaccio C'è scritto Pokémon Mario C'è scritto Pokémon Cucaccio C'è ragazze C'è merda C'è di No No C'è piccolo C'è piccolo C'è piccolo C'è giovele E dai Giovele è proprio di merda C'è scritto Scambio Cucciolo di coccodrillo Cucciolo di coccodrillo No No C'è merda E merdoso Tutto smerdato Ma la puputa Oh Che è Aspetta No Giove Giove No aspetta un attimo Giove Aspetta Prima di vederlo Ti devi mettere là Io lo so che cos'è C'è Guarda Giove Wow C'è Hai visto Giovele Sì Molto Potentissimo Poi Giove Non lo vede Ma come No Posso vedere No aspetta Prima la devo far vedere Alla Alla telecamera Ok Ok Chiudi gli occhi E non puoi vedere Perfetto 3 2 1 Wow Wow Un'energia Del fuoco Ma che fa Ma che fega Vi chiederete Ma perché Mi metto così Come un ubriaco Perché mi sono fatto La prima dose Del vaccino Anti-covid E ho 12 anni Tra il 30 agosto Ne compio 13 La dovevo fare A dicembre Ma comunque Di vita Questo coro E' zitto E' zitto E' zitto 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 Venga Zitto Dallo Zitto Davanti 922 Oh Ci sta Kang 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 Chi è? Ci sta Kang Kang Sì è Kang 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 Ah Sicurità E' I cicciotti Sì Perché una volta Siamo andati In discoteca Insieme Perché Uno E uno Si chiamava Kaha 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 Kaga 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 Perché mi sono messo Così No Proprio un pokemon Kaha Perché non me le fai vedere Perché esistono le energie Le energie Ma non mettilo qua Le energie No Sì Ma mancano pochissime Paggine No Mancano pochissime pagine E ci stanno altre 3 Mancano pochissime palle Porca pittana Oh mancano pochissime palle E te voglio contare Quante sono 8 pagine Di palle Di 2 Sono 2 come le palle Come le nostre palle Sono 2 Non mostra le palle Non mostra lo scroto Porti Iago Perché Non riesco a prenderlo Ma Voglio contare le pagine Le pagine Le contiamo Allora Adesso noi ci nascondiamo Zitti Voglio Io qua Sento dove Ok Però metti Quella sedia Grande davanti Vai Vai Può giocare Quando ti trovo Non dire Dove sono io Quando ti trovo Non lo dire Dove sono Bene C'è No Anche Fermo Dai Sento Dove è Ma te Pagli Vengo Non Dove sono io Ok Ma che cazzo Isma Dai Isma dai Ciao Dai ma perché vi nascondete Dove sono io Ok Dai Isma Buongiorno Perché ti sei nascosto E comunque non si può prendere Gago Ok Dai prossima carta Ma perché ti sto preoccupando Non lo so Per le pagine Ma chi Tu Ah per le pagine Vabbè Ce ne stanno Le contiamo Sì ragazzi Zitto Allora Uno Due Allora la prossima carta è Pansear Una scimmiotta Fammi dai pansear Pansear La tempo qui Ho capito Vediamo se Voglio vedere No 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 Dove sei Giamander 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 De già Giamander 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 Ma che è che è Giamander Fammi dai Che carino Un dinosauro Minchia Minchia Un dinosauro Minchia Uno E che palle E che palle No C'è una cosa Che dice le cose Facciamo una cosa Gio No Allora Ti voglio Mi poterla prima Quando sei nel ginocchio Allora mettiamo Canapè Allora mettiamo Intanto Tutte le cose Le energie Le mettiamo Allora Ok Questo lo mettiamo qua Questo qua Porca puttana Porca puttana Porca puttana No Gio Tu non puoi vedere Puoi vedere Un'energia Ma che c... Guarda Un altro Un altro Dai zitto Zitto Gio Ho visto Eh Non parlare Si state credendo No Sì Vabbè doppione Dove la comprate Ste cose E chi te la regalate Al compleanno Michele Dove la trovate Michele 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 Dove la trovate Michele Raga non ci crederete Che carino Un colore Un colore Un colore Che carino Ma ciao 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 Isma guarda Dove la mettete Normale Cazzo guardi Cazzo Aspetta Non ho attivato La modalità Non disturbare Meno male Non ci sono stati I messaggi God Aspetta Quanto È durioso È zitto Ok Allora Non fai più Ci siamo No 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 Dopori Quartamino Faccio io Un video Dai Ti ricordi Come cadevano Le carte Ciao Famite il piccolino Ma che Quante energie Quante energie Fammi Ok Stai carte Le butti Delle energie No Eh ma L'energia Sì ma Sono 100 Eeeh Chi se l'importa I pokemon Sono importanti 100.000 No Fuori di qui Dovete andare fuori Allora I pokemon Sono importanti Le energie Fuori di qui No Dovete Non togliete la minchia Dovete andare fuori Eh guardami Dovete andare fuori Non ti coprire Dovete andare fuori Capito Dovete andare fuori Capito No No Fuori di qui Dovete andare fuori Dovete andare fuori Fuori No Giù Zitto Zitto Mi voglio L'energia Zitto Zitto Mi aiuti Come? Non mi aiutare Vabbè Non fate Zitto Zitto Non devo guardare la luna Sennò diventi un sauro Come fai? Non è il Dragon Ball Super Bro Dai Ok Buongiorno Buongiorno Ma Eri buongiorno Ma perché hai bloccato? Ma che cazzo Non bloccare Ok Ma questo ha tutte le energie Tranne Madonna Questo ha tutti Tutte l'energia Sì E i pokemon Ah eccoli Stanno lì i pokemon Stanno i pokemon Guarda che pronuncia Pokemon Cara che c'è mon Che c'è mon Cara che c'è mon Che c'è mon Che c'è importe Cara che c'è importe Cara che c'è importe Che c'è importe Oh cara mia Non c'è importe Lucas Che casa di culata N'ha affaccato Lucas Ma vado sotto Pedaccia del caffè Vado al bar E mi fumo un caffè Mi sto fumando un caffè Mi sto fumando un cannone Cazzo Ho scoperto di essere frocio C'è maa C'è maa Ma ho scoperto di essere un frocio C'è maa C'è maa C'è maa Il tuo culo Ciao ragazzi ci vediamo in un prossimo video Dai no Una Perci Che fai Che fai Ti abbraccio Ti abbraccio Ti abbraccio Porca Non puoi No Oh devo dire una cosa Jonathan Ma il pokemon Io pensavo che avevi 18 anni No E hai 12 Guardi c'è maa C'è maa No io voglio che mi fai più avvicinare Guardi c'è maa Chi è questo? Eh Ehm Ehm Quello Il piccolo di merda Eve Eve Greve Greve Ah quello che sembra Gregori Picoci merda Zitto Lo sai che Gregori si segue? Mh Faffanculo Gregori Nooo Povero Gregori Sto scherzando Ma tanto non si guarda il video Nooo Tanto non si guarda Tanto non se lo guardo Perché il video è di un'ora Secondo i miei calcoli questo video dovrebbe durare un'ora Mizzica Cioè Allo Sto video A fare sto video qua Ci abbiamo messo Ehm Ci abbiamo messo due giorni Perché Allora questo video qua Dello Dello Spacchettamento dei pokemon L'abbiamo iniziato ieri Perché non avevamo tempo a finirlo Eh L'abbiamo iniziato ieri E lo stiamo finendo oggi Sapete perché? Perché non avevamo avuto tempo E poi il mio telefono Siccome si era scaricato Quindi Ehm Oggi ne abbiamo fatti due di video Questo è il secondo video di oggi Quindi tutti e tre i video uniti Più La intro e l'altro E più Quegli altri dovevano durare 56 minuti Ma un'ora e non lo so Gioratan Settimo Ma ancora Ancora Quello che ti avevo fatto vedere prima Ti ricordi? Sì quello l'ha Ancora Sette Eh No ma non era otto Sì ho notato Sette sette Aspetta che ecco è che ecco è come si chiama Contalo Allora questo è Lui E' la pozione Figa Tu l'hai ridetto quella parolaccia Figa Dai No Au Au Di cosa? Au Au No di au ne sono sette Charizard 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 Bellissimo Mettila negli altri Charizard Così abbiamo il doppione di questo Charizard Ho osservato le tue tecniche Isabella Pensavo le tue tette le tue tette F beach Ho osservato le tue tette Ho osservato le tue tette Sono molto grosse kiddi Ho osservato le tue tette, sono molto grossi, morbide, sono molto fantastiche, sono morte e le vuole beccare, bevi il latte, nel bicchiere, il latte delle tette nel bicchiere. No, quello che aveva prima il macchino. Prima non eravamo così volgari, adesso sembriamo i figli di quattro anni. Ciao Armande! Un attimo Cici. Ciao Armande! Ciao Armande! Fernando! Ciao Armando! Ciao Armando Maradona! Dico Armando Maradona è morto un anno e mezzo fa. E la Peppa. Oh davvero? Ho capito! Porca puttana! No no no, mettilo in un'altra pagina. Non me la metti mo? Ma che minta non so. Alla hai finito l'album? No. Corack. Allora è completo anche gli altri! Manca questa parte e anche... Quante ne sono? Oddio. Una e due parti. Quindi cosa ne sono? Ma fermo, manca solo questa pagina. Eh? Solo? Solo questa. Abbiamo riempito tutto questo album qua! E tranne l'altra pagina manca una. Infatti mancato una. Proci ma... No! Che è? Però non ci entrano. Perché? Quante sono? Ne sono di più. Cioè... Ne dobbiamo... Dobbiamo finire ambozzi! Che cazzo! Porca puttana! Due giorni e mezzo facciamo stambozzi! Che delle pane! Madonna! C'è la stufa! Quarta parte! Quinta parte! Non lo so! Ma quello là dello spaccamento di regali quello là? L'avevi già caricato? Si! Ok. Oddio! Che cos'è? Una cicogna! Conciano! Ma chi è? Camilla! 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 Camilla l'abbiamo mostrata io! Camilla ha i capelli violi! Sessuale! Bella gnocca! Oddio! Si stracciano tutti! Ma stracciati da solo! No guarda! Perché sento le presenze? Bella gnocca! Che problemi c'ho nel cervello? Bella gnocca! Dai! Hai visto te stesso! Questo è lo Bippi? Cosa? Bella! Bella gnocca! Bella gnocca! No! Non è mica una parolaccia! No! Se dici mignotte è una parolaccia! Io non l'ho mai bippate le parolacce nel 2021! Infatti! 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 Ma perché non le bippo più le parolacce? Quindi! Ciao lo devi bippa! No! No! Ma perché? Ciao! 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 Ma vai a fare ciao! Ma vai a fare ciao! Ahahahah! Dai! Vai a fare ciao! E lo bippo! Quindi chissà che viene! Ma vai a fare ciao! Ah ci lo taglio proprio! Ah ci elimino proprio il video! Dalla galleria! Ma vai a fare Pokémon! Ma vai a fare mummia! Ma vai a fare mummia! Ma vai a fare mummia! Ma fai Ismaele! Ma fai Ismaele! Ma fai Ismaele! Ma fai Ismaele! Oh dai! Devo fare una cosa! Va fa Lion! Citto! Lion è bravo! Ma dove? Ma Ismaele! Devo fare mummia! No però non coprire ste carterare! Non le coprire perché sennò ti ammazzo! Ti ammazzo il culetto! Ma vai a fare mummia! No! Non aprite! Ci sono i carabinieri! No! Ci sono i carabinieri! E non gli sono! Sono solo i nostri genitori che vogliono invadere la casa perché dobbiamo fare i compiti! Io domani non ci vado a scuola perché il braccio mi fa ancora male! Perchè sei malato! Io non ho fatto i compiti, incriato! L'ho fatto il culo a tuo dato Io non ho fatto i campiti Quindi domani non vado a scuola Tu vai in dad Oh chi è? Chi è? Chi è? Chi è? Chi è? No Non è il culo Lecca tutto No No Ebbene una tartaruga! Ma ti leeevi! Ti ricordi quel video dove Gio è? Lion aveva nascosto un enigma nel suo nuovo album di figurine Ok non più! Devo vedere una cosa Gio! Levati! Vai a cagare tu! Oh! Vai a fanno! Dai! Oh! Via! Allora... Dai! Dai! Ah! Dai! Stai zitto! Ah! Ah! Ok! Chi è? Oh! No! Ma potevi coprire questa? Che questa la bici è capitata sette volte! L'ottava volta sicuramente no! Oh! Que carino! Si chiama Licktyung! Mmm! Un altro! Scambio! Ah! Quello scambio! Vabbè chi se lo fa? Che scambio? C'è scritto scambio! Ah! Questo è caramander! Mmm! Bella pronuncia! Bella pronuncia che faccio! Eh! In realtà non si chiama così se no che non è! Caramanander! Io non ci credo! Caramello che c'è? Ancora au! Ancora au! Ancora au! Ancora au! Ancora au! Ancora au! Au! Aspetta! Aspetta! Non voglio fare male! Che? 8! Gio! 8! 8! Au! 8! Au! Non voglio fare male! Non voglio fare male! Ma che me l'hai fatto qua? Qua c'è un vaccino! Qua? Si! Ah pensavo qua! Te l'ho pure detto! Aspetta! Mi voglio fare male! Non voglio fare male! Guarda! Dai! Dai! Au! Ho detto dai! Ho detto basta! Ok! Chi è que? Chi è que? Aspetta! Megaball! Megaball! Pikachu scelgo te! Megaball! Dragonball! Dragonball! Ma qua è vuoto! Dragon 3! Qua è vuoto! Mettilo! No! È vuoto! Mettilo! E lo metto! Chi è questo? Che? Come si chiama? È una scimmia! Ah! Quella scimmia di prima! Il doppione! Un attimo! Quante carte abbiamo? Ma mille! Bellissime! Il video sta durando 26 minuti! 26? Incredibile! Tu sei! Vaffanculo! Immigrato! Ma perché? Se non sei vai a affanculo! Ma perché? Ma perché? Ma perché io non ti ho pagato! Che c'è ancora au? Ma perché? No! Io vi ho pagato! Ah! Joelle! Io vi ho pagato! Joelle! Stai trovando il Pokémon! Joelle! Il Pokémon! Guarda! Chi è? Chi è? Au? No! Sembra au! È au! Guarda dalla tua camera! È au! È au! Fa vede! È au! No! La nona! Carta! Adesso mi faccio male! Se io... Ti immagini trovi anche la decima carta di au! ok fatto va bene quanti altri? porca puttana non c'è altro un'altra scimmia un'altra ricordazione è questo un'altra il carino mettilo c'è una lingua aspetta aspetta visto che ci sta l'eccolo metti qua metti qua basta sei più volgare di noi deficiente che è qua? ma che ne so una scimmia ah un'altra scimmia tre doppioni quindi un triplone tripletto tripletto si dice e perché? lascia ti vuoi stare fermo? eh cosa sei Lorenzo? sì come Lorenzo? dai basta oh sì mari buongiorno vuoi stare fermo? non non puoi prendermi lascia mi zitti è colpa è colpa di gioele che non si si vuoi coprire ste energie come si chiama? anche au è clara a me au come au la decima carta si e non l'abbiamo ancora finito aspetta eh che ho come oh fai vedere eren è finito o no? eren finite le carte lo so è finito dai che fai? a finirlo no non tutte questo ho aperto dritto mettilo dritto raga qui è tutta la collezione oh diamo tutte le carte questo non è dritto allora mettiamo questo qua e questo qua ale ma non abbiamo completato proprio ma non fa niente no no dobbiamo mettere le altre non fa niente dai dai così abbiamo completato tutto ok abbiamo finito aspetta guardate raga l'album di smile è tutto pieno delle carte dei pokemon rare e non rare ci abbiamo ma non abbiamo completato tutto ah sì che l'abbiamo completato tutto non l'abbiamo completato tutto sì che sì ma ci mancano delle parti dopo sono finite le carte l'abbiamo finite l'abbiamo finito tutto l'album questo questo guarda questo questo questa 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 oh e tu li vedi tanto dura un'ora il video tanto non te lo vedi un video di un'ora stupido questa tanto mi dura un'ora è questa e io lo vedo perché è un'ora in piatta stupido stupido hai fatto vedi dove lo lo vado a metà posto no io io tu finisci non posso finire da solo dopo ritorni dobbiamo finirlo insieme vai finisci aspetta vai dopo ritorni e dai dobbiamo finirlo insieme vai finiamo vai no prima mettila a posto no prima mettila ho un altro aspetto un attimo no un altro aspetto ok mettila a posto citto pochino c'è paura mettila a posto mettila a posto dobbiamo finirlo vai dentro oh ma che chiudi oddio oddio è voglio arrivare aspetta che chiudi la porta in faccia citto ehi tu non mi chiudi la porta in faccia stupido citto tu non mi chiudi la porta ok citto tu non mi chiudi la porta in faccia capito non mi chiudi la porta in faccia citto citto non chiamare nessuno citto citto ok Raga, spero che il video te l'embozzi... Madosca! Ok, Isma, 36 minuti! 36 minuti! Un'ora e mezza di video, quindi, devo unire insieme. Inquadrami. Un'ora e mezza di... Inquadrami. Si vede? Sì, si vede. Eh, ma un'ora e mezza! Ok, raga, spero che... Il video vi sia piaciuto Spacchettamento unboxing dei Pokémon più grande d'Italia Se Joelle non la smette di lasciare le cose Quando imparerai Eh, spero che il video vi sia piaciuto Stiamo per avvicinarci ai 200 iscritti Siamo a 197 E... ciao! Ciao! Oh, Isma! Ciao! Ciao! Hey! Oi! Grazie a tutti.